Nel corso della giornata nazionale della colletta alimentare sabato scorso, in Abruzzo sono state donate 199 tonnellate di alimenti, pari a 398.000 pasti, raccolte da 4.000 volontari in circa 350 punti vendita di tutta la regione. Nel 2017 le tonnellate raccolte erano state 193 e pertanto quest'anno si è registrato un incremento del 3%. Un sentimento di gratitudine immensa ci pervade, ha commentato Luigi Niliato, presidente del Banco Alimentare dell'Abruzzo, anche perché dopo anni di difficoltà e di conseguente diminuzione delle donazioni si assiste ad una leggera ripresa. Sin dai prossimi giorni inizierà la distribuzione dei prodotti ai 29.732 poveri d'Abruzzo assistiti dal Banco Alimentare, mediante 177 enti convenzionati. Per sostenere i costi del trasporto e dello stoccaggio degli alimenti donati il giorno della colletta alimentare, sino al 3 dicembre è attivo l'SMS solidale al numero 45582.